In questi giorni l'ambasciata ucraina in Italia ha condiviso queste due foto. Secondo diversi utenti le fotografie non riguarderebbero l'Ucraina, ma il terremoto in Turchia. Di fatto però si sbagliano. Le foto condivise dall'ambasciata ucraina in Italia non sono complete, sono state tagliate in maniera quadrata, così facendo però hanno tolto tutti gli indizi che potevano ricondurre appunto all'Ucraina. Come ad esempio la scritta in cilindico dietro la giacca del pompiere. Le due foto sono state scattate dallo stesso fotografo e le troviamo su Ghetti. Nella seconda foto troviamo ulteriori elementi. Oltre a una bandiera ucraina e la toppa di un soldato che porta fuori una persona ferita, ci sono anche dei manifesti dietro in cilindico. Alcuno di questi in particolare riporta la scritta di un taxi 7788. Si tratta appunto di una linea di taxi che si trova in Ucraina. Ecco perché chi sostiene che queste foto siano state scattate in Turchia si sbaglia di grosso. Grazie. Grazie. Grazie.